Buongiorno, allora, prima di tutto domani caricherò il video, sto qui ci saranno a scrivere le rendicontazioni perché 24-25 si comincia altro video di storia, questa è una richiesta che mi arriva, una di quelle, arrivate addirittura per me che mi venisse quello che sapete non voglio parlare, si tratta di un video di storia quindi non parlerò di quello che ha detto la Catalfo o delle ultime uscite di Don Abbondio, ne parlo magari domani nel video sulle rendicontazioni ma questo video secondo me dovreste ascoltarlo, il video avverto sarà lungo, molto lungo dovreste ascoltarlo perché è lo specchio di quello che è l'Italia anche adesso perché parliamo di un momento storico dell'Italia anche se ne parlo partendo dalla guerra fatta dagli alleati dell'Italia in quell'anno cioè quella che era il Regno di Prussia la guerra austro-prussiana e incidentalmente per l'Italia la terza guerra di indipendenza perché parto da là? Perché è di là che si vince l'Italia fa una figura dal punto di vista militare da barzelletta da bar ma sono anche buono per farvi capire la differenza la Prussia ha la volontà di unificare la Germania che fino a quel tempo era divisa tra stati, staterelli, città libere e quanto ed era una buona parte sotto la protezione dell'Austria che era ancora impero austriaco, non era ancora diventato impero austrungaco lo diventerà dopo questo disastro la volontà è spinta da un politico eccezionale come Bismarck in Italia c'era Cavour ecco paragonare Cavour a Bismarck cioè come paragonare una 500 scassata a una testa rossa Bismarck aveva soprattutto due caratteristiche era ferocemente anticattolico c'era la morte con il papato e ferocemente anti-austriaco vuole una Germania fatta da tedeschi e per un po' mangia letteralmente le mani e le budella perché l'Austria furba come una faina nel 64 a causa di scontri tra la Prussia e la Danimarca e l'Olanda vado ad appoggiare perché se la Prussia litiga con qualcuno io vado subito ad appoggiare quel qualcuno va ad appoggiare queste nazioni e umilia ulteriormente la Prussia intanto Bismarck cova rabbia mentre lui cova rabbia un generale Helmut von Mölk senior preparato intelligente crea quello che diventerà l'asse portante dell'innovazione militare stiamo ancora parlando di gente che ragionava dal punto di vista militare come Napoleone era successa una guerra durata quattro anni dall'altra parte dell'oceano ma in Europa non se la cagano perché esso qual è l'impatto a barboni americane ha visto che si sparano addosso uno con solo casino sono dei pasticcioni ecco il concetto di fondo è quello no l'unica roba che si ricordano e poi ve la dirò è una cosa specifica ma è un'innovazione che non è capito neanche in quel caso però molte capisce ad esempio una cosa che coordinare gli eserciti è complicato ci sono mezzi nuovi per il movimento i treni ci sono mezzi nuovi per la comunicazione e il telegrafo e cerchiamo di sfruttarli al meglio creiamo uno stato maggiore ora qualcuno può dire ma lo stato maggiore c'era già no quello che fa non è quello che faceva Berthier nella grande arme francese Berthier praticamente faceva tutto da solo aveva un po' gli aiutanti di campo ma per il resto stava tutto lì a scrivere l'unica volta che Berthier ha comandato come comandante delle armate francesi dell'armata francese è stato all'inizio della guerra nel 1809 contro l'Austria cioè i comandanti sul campo si facevano il segno della croce perché Berthier come comandante sul campo era un disastro però era bravissimo nella gestione nella gestione degli aspetti meno visibili della guerra cioè i rifornimenti, i movimenti le mappe, la ricognizione ma faceva da solo molche no abbiamo i mezzi costituiamo un organismo fisso che prepara il campo di battaglia che prepara e ci informa ci istruisce su quello che andiamo ad affrontare sul territorio sulle posizioni fornisce in tempo veloce le mappe, le indicazioni soprattutto fa comunicare consente una comunicazione diretta tra i reparti separati ribaltando quando lo sentiva dire da qualcuno mi è venuto un vagone perché questa è una cosa storica militare molche non era uno di quelli che credeva al dominio della posizione centrale tirata fuori dal vecchio barone Iomini ai tempi di Napoleone e anche Napoleone noi c'è un po' anche lui un po' quella fissa ma non così tanto perché Napoleone preferiva manovrare sulle ali avere una posizione centrale può essere vantaggioso può essere anche in disastro è stato vantaggioso per lì a Chancel a Lorsville a Grant della posizione centrale fregava un cazzo a Chattanooga se loro alla posizione centrale avevano attacco le ali è stato così veloce da spaccare Brackton in due pezzi è la velocità di concentrazione per colpire ma la velocità dipende anche dalla velocità con cui passano i comandi e anche da un altro aspetto che non veniva considerato a quel tempo dalla velocità di esecuzione dei singoli comandi a piramide cioè anche il comandante di brigata deve essere agile nel pensare non deve sempre aspettare che arriva la pappa del generale di divisione che gli spiega cosa fare tenete conto che questo principio sviluppato aumentato migliorato raffinato nel tempo sarà la base portante della struttura della Wehrmacht dove anche il singolo comandante di compagnia aveva autonomia decisionale cioè sembra una cosa stupida per gli eserciti moderni che hanno una velocità di trasmissione di informazioni enorme ma a quel tempo non è il telegrafo così sì ma molte cose passano ancora per il cavallo se tu devi aspettare l'ordine del tuo superiore sei bloccato lì no tu devi essere elastico lo diceva anche Federico II Federico in grande devi essere elastico capire da te cosa devi fare perché tu sei lì tu vedi la situazione lì gli altri intorno a te non la vedono soprattutto non la vede chi non è lì il tuo superiore e a salire di grado hai il tuo comandante di divisione di corpo d'armato d'armata l'Austria ovviamente appena la Pruscia dice no adesso poi dai coglioni voi entriamo noi a comandare il resto della Germania perché questi parlano tedeschi gli austrici anche noi sì ma voi avete boemi ci avete murami ci avete ungherese ci avete streani ci avete minonna ci avete mia zia poi dai coglioni l'Austria ovviamente gli è venuto subito un rigotto che metà basta un rigurgito per chi non la Prussia comincia a raccogliere leati tra la confederazione tedesca ne raccoglie pochi rispetto a quanti vanno sotto la bandiera la bandiera austriaca però c'è un'azione formata da poco che è dal 59 che c'è un giramento che metà basta perché nel 59 gli è stato imposto l'armistizio di Villafranca perché chiediamo un punto 48 4 sberloni c'erano solo gli italiani hanno preso 4 sberloni qualche battaglia l'hanno vinta ma quelle non sono battaglie sono barzellette non voglio offendere la memoria ma battaglie in cui muoiono meno di 100 uomini e ti trovi un esercito in rotta capisci che non hai di fronte degli eserciti da una parte c'era un un arterio perché Adeschi c'aveva 82 anni erano ormai un bacucco cioè però qualcosa si riguotava ogni tanto c'avevamo un lampo e si ricordava la guerra si fa così però era un generale napoleonico dall'altra parte avevamo Carlo Alberto che non era neanche un generale napoleonico era un generale del tempi delle guerre delle guerre di secessione del Settecento ancora più indietro e l'esercito piemontese era un disastro però la seconda la vincono i francesi a Solferino lo so vi sto urtando l'amore di patria ma a San Martino a San Martino un solo corpo d'armata comandato da Benede inchioda tutto l'esercito italiano è vero fa una cosa positiva perché toglie in pratica una delle ali all'imperatore striaco il vostro amatissimo Francesco Giuseppe che come comandato in campo era una chiavica comunque e questo agevole i francesi però vi faccio notare che anche Napoleone III non è che abbia comandato bene a Solferino hanno comandato bene i suoi generali ma il fronte era talmente esteso che il generale A non sapeva cosa faceva il generale B e poi i francesi hanno sempre avuto l'elan cioè c'è la baionetta e carichiamo funzionava funzionava perché psicologicamente quando ti caricano una baionetta di corsa dopo che ti hanno tirato due o tre scariche di fucileria e sai che i francesi in quello erano avevano il fegato gli austriaci che l'esercito francese era un esercito ancora nonostante tutto con un profondo spirito nazionale quell'austriaco un po' meno e sai di morire per l'imperatore magari l'austriaco gli poteva interessare al boemo un po' meno all'ungherese o all'yugoslavo men che meno cioè erano lì per obbligo diciamo così e poi già litigavano tra di loro cosa che succederà anche nel esercito italiano a Solferino si vince sì però Napoleone III è scioccato dal numero di perdite cioè se andava a vedere cosa ha fatto suo zio Napoleone I gli veniva un coccolone lì la leggi sui libri poi magari vai a leggerti non so il resoconto dei caduti alla prima sconfitta che effettiva di Napoleone tu hai ad Aspen Hessling e quando ti leggi gente morta per ustioni la palla di cannone insomma forse è stata la prima volta che Napoleone si è un po' pentito del massacro perché si è trovato più del 20% degli uomini morti mutilati feriti si è avuto diciamo un piccolo rimorsino gli ha durato un paio di minuti con il tempo di Beron Brandy anzi non Cognac però hanno vinto hanno vinto e siccome la guerra la conducevano i francesi decidono i francesi prendete la Lombardia non mi scassate i coglioni io c'ho Napoleone III già vedeva quei tizi là con la punta in testa che giravano un po' troppo in zona ha detto aspetta ci sono i prussiani a me interessa noi più perché c'ho la Salzza e la Lorena attaccata di Chiarpe e allora aspetta aspetta un secondo armistizio di Vilafranca via nell'866 la Francia non c'è non c'entra un cazzo ha i suoi casini ha i suoi problemi neanche così non c'è non è tra le parti coinvolte la Francia al massimo è tra le parti coinvolte dal punto di vista politico e poi ve ne parlo ma c'è la Prussia la Prussia dice guardate voi vi alleate con noi facciamo una bella mutua alleanza di soccorso e vi pappate voi vi pappate il Veneto diciamo se avessero combattuto decentemente si pappavano anche il resto cioè Trentino Trento Trieste Gorizia e compagnia e intanto ci togliete un po' dalle scatole una parte dell'esercito austriaco che a noi male non fa di là c'è Von Molke Von Molke affida al generale Wögel von Frankenstein il comando delle operazioni per abbattere l'esercito della coalizione degli stati confederati cosa che riesce anche se lì ci sono pieni di controverse su come l'abbia fatto perché von Frankenstein è un alto generale napoleonico puoi avere anche il fucile Dreyse quello a retrocarica insieme allo Schauss e Po sono i primi fucili a retrocarica che ti consente di ricaricare da sdraiato ma alcuni Falkstein combatte ancora con una certa idea napoleonica quindi andiamo alla carica e così riesce a vincere perché nonostante questo manovra bene però alcuni dicono che ha vinto anche perché l'esercito della confederazione degli stati tedeschi a un certo punto si è trovato senza risorse senza rifornimenti non aveva praticamente una cartuccia da caricare nei fucili anche loro avevano i Dreyse quindi che gli sparava a parolacce ma vince Langensalza ottiene una grande vittoria contro gli annoveriani 19.000 caduti tra gli annoveriani e le forze della confederazione degli stati e 9.000 tedeschi contro 9.000 prussiani e questa è una cosa che ricorrerà in tutto il conflitto fino i prussiani perderanno su due battaglie o meglio una battaglia durante una delle marce di avvicinamento delle loro colonne al grosso dell'esercito austriano solo che in quella battaglia gli austreci perderanno quattro volte i caduti delle forze prussiane che si ritireranno in ordine ricongiungendosi alle sue formazioni mentre gli austreci hanno preso un salasso ed erano completamente disorientati dopo il sadua ci sarà un'ultima battaglia in cui gli austriaci finalmente impareranno a usare le armi che hanno in particolare il moschetto Lorenz ora io prima di fare questo video vorrei dare un'occhiata su wikipedia per togliermi una curiosità allora io non so chi ha curato la pagina ma quello lì secondo me è un libro di storia non l'ha mai aperto ma neanche un libro di tecnologia militare a parte scrivere che l'esercito austriaco ha avuto 20.000 morti cioè 20.000 tra morti e feriti solo a Sadova sono 42.000 comunque senza contare tutte le altre battaglie di avvicinamento di conversione dell'esercito prussiano in cui ha sempre avuto una media di 4 a 1 tra loro e i prussiani ogni prussiano caduto cascavano 4 austriaci e poi il Lorenz era mediocre ora il Lorenz aveva un difetto aveva una traiettoria di tiro curva praticamente sparava non tirava in linea retta aveva una una piccola traiettoria ascendente poi andava indiscente però aveva una grande facilità di ricarica una manutenzione facile per essere un moschetto e aveva una gettata altissima più di doppio rispetto a quella del Dries tant'è vero che i Lorenz usati dalla fanteria federale perché gli austriaci li avevano venduti all'esercito unionista e infatti non ne avevano per i suoi soldati talmente ne avevano venduti pochi nelle loro caserme non c'erano abbastanza Lorenz da rifornire le truppe non c'erano abbastanza moschetti li avevano spediti in America andate a guardare come li usavano gli unionisti andate a guardare a Franklin dove cominciavano a segare quei poveri cristi dell'armata del Tennessee a 800 metri di distanza quando i moschetti dell'armata del Tennessee non potevano neanche fare fuoco di controfucileria perché erano troppo lontani e così si ripeterà su tutta l'arca della guerra di secessione era un eccezionale moschetto usato malissimo perché e qui entra anche un discorso abbastanza brutto il comando dell'esercito austriaco viene dato a Benedek cioè l'eroe di San Martino quello che protesse l'imperatore così ma Benedek non era un nobile mentre tutti i comandanti dei corpi d'armata dell'esercito austriaco erano nobili e vedevano Benedek come se uno gli avesse cagato nel piatto ma letteralmente non sto esagerando perché a Saldo va a succedere una cosa indecente che se fosse successa in un altro ambiente era portato alla fucilazione immediata di quei due comandanti Benedek è uno che crede nel coraggio è un cavalleggero quindi ha già di su quello ma poi ammira l'elan cioè la spinta lo spirito francese della carica alla baionetta tu hai un fucile che è eccezionale per colpire dalla distanza e tu invece di utilizzare questo mezzo baionetta in canna e carica dopo Sadova c'è ancora uno scontro che poi è quello che convince Bisma di dire basta qui sennò questi hanno capito come il suo in cui gli austriaci invece di caricare come di minchia fanno fuoco di fucileria a distanza i prussiani vincono anche quello scontro però il ratio delle perdite è 2 a 1 ma due prussiani per ogni austriaco caduto o 3 a 1 non mi ricordo perché è una battaglia minore Bismarck capisce l'andazzo ha già la richiesta di armistizio di Ciacobep e gli dice senti facciamo così guarda tu mi dai questo 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 e non rompi coglioni Ciacobep pur di togliersi dalle scatole quello lì che era pericoloso e soprattutto perché le casse dello Stato erano abbinate va bene ti pigli un po' quello che vuoi da lì la Prussia ci mette pochi anni ad annettere anche tutti i regni che non erano passati direttamente sotto il suo controllo a causa della guerra quindi si passa Sassonia Baviera e compagnia danzante e crea la Germania quella Germania che poi andrà Napoleone III io la Alsazia la Lorena non ve la darò mai infatti Gravelot Senprivat Sedan quattro pedate nonostante avessero gli Chassepot nonostante avessero le prime mitragliatrici che i due fratti anche lì segno della croce perché rischia di esplodessero addosso ancora lì i francesi hai il fucile e la retrocarica e carica la baionetta e vai che fa sempre colore poi caricama la baionetta con quei pantaloni rossi che facevano tanto figo che sono stati il sogno di tutti i mitraglieri tedeschi durante le fasi iniziali del conflitto della prima guerra mondiale perché vedevano arrivare i francesi a tre chilometri di distanza semmà la macchia di osso dice guarda tirala basso vabbè per dire quanto ne fregassero questi tizi qua dei poveri soldati stavo dicendo bene e credi in quella filosofia e quella filosofia contro un esercito che è in grado di ricaricare velocemente e generare un grandissimo volume di fuoco è una filosofia del cazzo ma anche qui potevano studiare la guerra civile americana potevano studiare quello che era caduto a Gettysburg 6.000 uomini del secondo corpo d'armata 15.000 all'attacco finito quello dietro ne ritornano meno della metà il secondo corpo è praticamente non dico integro ma ha subito perdite relativamente lievi considerate una massa d'attacco e considerate che anche lì nonostante l'onsted avesse detto guarda che se andiamo là ci arriviamo in pochi e dietro loro hanno le riserve sì alcuni reggimenti hanno sfondato e si sono presi addosso tutto il sesto corpo che era lì a dire ok bello sono arrivati più due brigate che hanno attaccato di fianco andate a dire a Pickett non so se poi sia vera la scena in cui lì gli va vicino e gli dice schieri la sua divisione non ho più la divisione però diciamo che non erano rimasti tanti e soprattutto quelli che stavano tornando indietro erano psicologicamente distrutti vi ho fatto questo esempio per dire che quello che succedeva di là erano i prodomi di quello che sarebbe successo addirittura dopo ma non in queste guerre ma durante la guerra mondiale cioè il fuoco delle trincee in questo periodo quello che succede negli Stati Uniti non viene praticamente cagato è una guerra secondo loro fatta da poveraci senza preparazione e qui gli austriaci sarebbero quelli che avrebbero più interesse a guardare l'idea perché i prussiani sono già avanti hanno già una filosofia più moderna della guerra molto più moderna lo Stato Maggiore in sé non è una sciocchezzuola perché consente una gestione molto più veloce delle situazioni e responsabilizzare anche i singoli comandanti consente una flessibilità che gli austriaci non hanno e infatti gli austriaci prendono sberloni su sberloni una vittoria in cui pagano sembrava Piro di sentire Piro un'altra vittoria così e perdo la guerra arrivano allo scontro a Sadorva Conigraz Conigraz è il nome della piazzaforte vicino Sadorva invece è il nome di un villaggio della Bohemia quindi casa dei miei antenati lontani lontani e Molker riesce a concentrare tre armate in modo perfetto quasi dentro lo schieramento di Beretek i comandanti del secondo e quarto corpo fanno una cosa che è da alto tradimento allora il primo ottacco viene al centro e viene arrestato con l'uso dell'artiglieria da parte delle forze austriache poi arriva l'attacco dell'armata dell'Elba sul lato che ottiene degli ottimi risultati e che oltretutto non viene neanche contrastato decentemente perché nessuno va ad avvisare a Benedetto guarda che se prendiamo quella zona sono cazzi non glielo dicono perché a Benedetto stava antipatico quella zona controllata dai Sassoni che erano ottimi soldati però diciamo loro più che altro combattevano per non trovarsi i prussiani a comandarli in casa però anche loro non rispondono correttamente a Benedetto perché cambiano posizione sul campo di battaglia senza avvisarlo i prussiani occupano una posizione importante la collina di Klum la collina di Klum scusatemi e poi Benedetto si sveglia e fa ma cavolo ma lì ce li abbiamo sul fianco se questi vanno avanti ci prendono alle spalle e li fa e manda la truppa all'attacco cioè quali là erano già trincerati con i cannoni è una tonnara cercate di capire quello che dicendo Benedetto viene sostanzialmente trattato a pesce in faccia perché non è un nobile il secondo e quarto corpo d'armata sono spostati da Benedetto per sorreggere il centro e l'ala sinistra ma i comandanti del secondo e quarto corpo hanno ricevuto informazioni dalla loro cavallaria leggera dell'arrivo della seconda armata prussiana sul fianco è l'armata più grossa è quella che deve sferare il colpo decisivo perché la prima armata nella sostanza serviva ad inchiodare le posizioni di Benedetto se questi qualcuno non li contrasta l'intera armata australica viene presa alle spalle questi due comandanti non dicono un cazzo a Benedetto si spostano cambiano le loro posizioni uno va a sinistra uno va al centro lascia una voragine e quando la seconda armata colpisce c'è un solo corpo d'armata a cercare di fermarli 100.000 contro non so erano 20.000 così vengono livellati allora Benedetto scoppa che c'è non c'è un buco c'è un cratere gigantesco un'armata che li sta girando intorno non un corpo così ma un'intera armata che può prenderli da tergo e ordina la ritirata e per salvare l'esercito austriaco viene sacrificata l'artiglieria cioè in Austria si è celebrato per decenni il giorno dell'artiglieria per ricordare il sacrificio di tutti gli artiglieri austriaci che si sono messi lì a sparare finché avevano munizioni mentre i cristiani gli venivano sotto e va bene l'artiglieria dopo un po' si tiene lontano un nemico ma quando la fantiglieria ti è sotto e le munizioni sono poche cominciano a sparare addosso agli artiglieri non è che cioè il cannone non c'era protezione gli artiglieri sono morti sul posto per salvare il resto dell'armata quella battaglia meno di 9000 morti tutti i feriti e i prigionieri tra i prussiani 42.000 tra gli austriaci erano 200.000 un quinto dell'armata spappolato più altri circa 10.000 perché durante la ritirata vanno verso la fortezza di Conigrath gli esbandati perché l'esercito in quel momento lì era in totale rotta molti non insegue perché i suoi riparti si sono disorganizzati non è ancora la Wehrmacht non è l'esercito prussiano della prima guerra mondiale non è neanche quello di Sedan è un esercito in embrioni ma ha già delle qualità enormi rispetto al nemico quindi però Molch è anche intelligente conosce una cosa che dice Molch e a Bismarck perché Bismarck si è messo la divisa da volontario ed era andato il comando di Molch ora Molch è tranquillo così Bismarck sembrava una trottola ora Bismarck non era proprio una sogliola e continuava ad andare avanti indietro e perché non fai questo a un certo punto mi dice io una volta che la battaglia è iniziata non posso fare niente perché questo lo diceva Agnès a un errore tattico si rimedia con le riserve a un errore strategico si rimedia con un massacro dei tuoi uomini però a Conigrat non ci sono i seguitori si sono le pattuglie di cavalleria leggera tra l'altro la cavalleria prussiana non è la cavalleria d'assalto non è più la cavalleria napoleonica tanto è vero che nella guerra mondiale i reparti di cavalleria prussiana perdono germanica li si vede sul fronte orientale dove la vastità delle pianure dava ancora un nuovo scopo aveva ancora un senso usare la cavalleria ma era famoso un detto che riguardava gli ulani e gli ulteri prussiani li sentivi arrivare a un miglio come di vederli per la puzza che rimanavano perché erano obiettivamente i cavalli erano trattati malissimo li usavano solo come ricognizione quindi non avevano questo grande affetto verso i propri animali questi soldati arrivano alle mura di Coniga e a Coniga non gli aprono le mura perché hanno paura che entrino delle spie tedesche tanto come fa a distinguere dalla lingua parlano tutti tedesco e quindi non li aprono e quindi altri 10.000 soldati vengono rastrellati così di fatto l'armata dell'Austria è distrutta poi gli ho letto c'è quella battaglia bismar capisce guarda questi stanno imparando un po' così non vorrei che mi costasse troppo la guerra facciamo cecco vieni qua allora io ti voglio questo 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 e tu me lo dai non roppi coglioni sì poi torna a casa gli ungheresi gli fanno sì ma se tu hai dato quello a quello là adesso noi non siamo più austrici ma siamo austrici se no ti facciamo un paio lo tanto sì immaginatevi che spessore era c'è cobebbe però no tutto questo di là la guerra si è vinta perché c'era un esercito moderno contro un esercito che ragionava ancora un po' troppo come Napoleone e soprattutto che aveva un difetto insito erano ancora figli del concilio aulico erano ancora figli di Van Damme che vinse contro Federico il grande alla battaglia di Colna semplicemente perché Federico il grande botta di sfiga non vide alcuni reggimenti sassoni mentre stava facendo una manovra girante perché sennò avrebbe vinto anche lì ma è quello il retaggio cioè un retaggio di una nobiltà che non ha nessun rapporto con i soldati non ci sono comandanti che vengono dalla gavetta dal basso c'è Bened ma Bened viene trattato come una merda perché non viene non è un nobile non è un nobile di rango e non gli si dà il rispetto che avrebbe essere dato a un comandante in funzione del suo ruolo i comandanti dei corpi di amata sono tutti nobili e sono tutti anche vecchi non è una questione di età per carità uno può essere lucidissimo a 90 anni ma questi erano vecchi sia fuori che dentro erano vecchi come mentalità perché erano ancora i napoleonici ed erano vecchi come età non avevano fresche e poi erano boriosi pieni di sé che se veramente se gli facevi un buco volavano via talmente erano gonfi perché vi ho fatto 30 minuti di premessa perché adesso passiamo all'altro fronte dove c'era un esercito che avrebbe dovuto stravincere un esercito chiamato Italia contro un esercito che avrebbe dovuto straperdere l'esercito austriaco l'esercito italiano conta circa 200.000 uomini l'esercito austriaco ne conta circa 75.000 lì ci sono dei dubbi perché alcuni dicono che effettivamente in quei 75.000 ci erano contati anche i reparti delle fortezze comunque diciamo sui 70.000 la componente mobile poi dipende cioè la forza che effettivamente il principe Alberto avrebbe utilizzato è relativa alcuni dicono che non schierano mai più di 5.000 uomini 50.000 altri dicono che le schierano tutti i 70.000 ma c'è un motivo per questa confusione perché le fonti di informazioni in questo settore tendono a non essere precisissimi non parliamo di eserciti con i ruolini registrati in modo perfetto e poi c'è il problema della narrazione italiana di questa battaglia allora l'esercito italiano non viene comandato più direttamente da regalant'uomo insomma i re d'Italia c'erano tutti i loro soprannomi Vittorio Manuel II figlio di di Carlo Alberto re Tentenna immaginatevi voi che aveva dato una prova spettacolare durante la seconda guerra d'indipendenza infatti comandava comandava l'imperatore di Francia di Napoleone III e lui rognava perché chi ci diceva chi si crede di essere questo qua io partengo la dinastia più antica d'Europa che ne ha avuto uno buono di generale Eugenio di Savoia che quella linea lì si è seccata subito e voi venite non so dall'altra banda da quell'altro gruppo di simpaticoni che annoverava come grandi comandanti uno così era Emanuele Filiberto testa di ferro che era intelligente quanto una scarpa dal punto di vista militare poi avevano c'era sempre il problema di avere il cavolo in casa che rognava ogni tre per due comunque abbiamo qui due generali la Marmora e Cialdini la Marmora però era anche presidente del consiglio e la Marmora aveva avuto un pur parler con l'imperatore Napoleone III in merito a una possibile cessione del Veneto da parte dell'Austria questa cosa la si può risentire anche durante la prima guerra mondiale in cui l'Austria disse all'Italia siete fuori dai coglioni noi vi lasciamo tranquillamente Trento, Trieste, Gorizia perché è meglio non avere voi mezzo alle balle considerando che il nostro principale nemico sono i russi e sono tanti ma c'è questo pur parler perché Napoleone III è preoccupato della Prussia se la Prussia vince la guerra si gonfia insomma 50-70 mila uomini su quel fronte sono importanti rappresentano un contributo importante per cui io ci metto una buona parola vediamo di sistemare un po' le cose però voi non fate gli esaltati la marmora generale d'alloggio allora magari voi vi esaltate il ricordo della breccia di portapiede dei bersaglieri della marmora ricordatevi l'esaltazione propagandistica è una cosa la storia è un'altra la storia è un'altra l'esercito papale ha fatto schifo da tempi in memore e se non era per gli eserciti mercenari sarebbe caduto da mo ecco a Mentana se non c'erano i francesi Garibaldi entrava tranquillo in Vaticano c'erano i francesi gli dicono non far cazzare gli austriaci muoviti piano l'esercito si divide in due blocchi il grosso sotto la marmora 120.000 uomini e un'ala sotto General Cialdini che era un mezzo macellaio visto che si è a parte aver ferito Garibaldi sulla spromonte quello è un altro discorso ma era anche uno di quelli che aveva agito nella repressione del brigantaggio e delle società segrete perché guai di Savoia no? in fondo Garibaldi si era offerto a Carlo Alberto nella prima guerra la risposta di Carlo Alberto scritta dai suoi collaboratori piuttosto che avere quello lì preferisco perdere complimenti per l'intelligenza la guerra vai persa non è un problema nella seconda nella seconda guerra di indipendenza il figlio che era un po' più sveglio ci voleva poco gli dà dei volontari però dico però noi combattiamo di qua nella zona seria secondo loro cioè il Mantovano così te la rompe i coglioni verso Varese e Brescia lui va a Varese e Brescia le battaglie le vince con 3.000 uomini e agli austriici viene una caga allucinante perché c'è Garibaldi di là con 3.000 uomini di qua c'è tutto l'esercito francese e non ti viene la caga fate un po' voi l'effetto anche psicologico di Garibaldi e nella terza gli danno un esercito regolare 40.000 uomini inquadrati equipaggiati tutto quanto però gli dicono vai a conquistare Trento tradotto va fuori dei coglioni che qua ci sono io c'è la Marmora c'è Cialdini l'idea seguitemi perché è allucinante che le due italiane avevano una possibilità assurda di vincere la guerra con un solo colpo e la butta nel cesso le due ali dell'esercito italiano sono più grosse dell'esercito austriaco come dato dal principe Alberto se i due generali si fossero coordinati sarebbe bastato che la Marmora attaccasse inchiodando il principe Alberto sulle posizioni e il Cialdini avesse attraversato il Po aggirando l'intero schieramento austriaco cosa sarebbe avrebbe dovuto fare il principe Alberto o sganciarsi dal combattimento e ragazzi la manovra di sganciamento mentre lo scontro è in corso è pericolosissima perché si rischia la rotta dell'armata o ripiegare prima comunque dando il terreno agli italiani che se poi si fossero anche congiunti avrebbero avuto una forza tre volte tanto quella austriaca questo avrebbero fatto dei generali normali guardate è la manovra che Ucker fece a Shanselosville tanto per dire quanto esaltano lì e la grande sì a Shanselosville lì la battaglia di Shanselosville è considerata la sua più grande vittoria è vero è vero ma i demeriti di Ucker lì sono enormi ma anche i demeriti di lì perché Ucker aveva fatto una manovra che dal punto di vista della pura manovra strategica era stata eccezionale ha separato l'armata del portomagno in due una delle due linee pressava la forza di lì e l'altra era girata dietro lì si trovava una condizione in cui se Ucker avesse continuato a premere aveva due possibilità o sganciarsi ripiegare ma consegnare definitivamente l'accesso alla Virginia all'armata federale o dare battaglia venire schiacciato da due armate che singolarmente erano più grosse della sua la stessa cosa qua le due armate sono più grosse cosa fa? la marmora fa una ricognizione in forze invece di portare 120.000 uomini oltre al Mincio ne porta 50.000 il principe Alberto attacca c'è una battaglia confusa in cui gli italiani perdono circa 7.000 uomini gli austriaci di più 8.000 perché ricordate ve l'ho detto prima hanno l'elan quindi baionetta in canna e avanti che siamo fighi che funzionava benissimo su quel fronte lì dove si ragionava ancora in termini napoleonici perché l'idea comunque di la marmora passato al Mincio era sempre la stessa andiamo ad assediare le fortezze del quadrilatero ora questa non è più neanche un'idea napoleonica questa è un'idea delle guerre di secessione austriaca e spagnola cioè il 1704 cioè Napoleone aveva detto chiaramente si distruggono gli eserciti le fortezze se non possono essere salvate da una forza di intervento da una forza che colpisce alle spalle gli assedianti crollano crollano distruggiamo l'esercito le fortezze contano poco puntualmente anche lì bastava guardare Grant a Vicksburg non attacchiamo direttamente giriamo intorno a Vicksburg e attacchiamo Pemberton che viene fuori battaglia di Cepionil Pemberton e Busca ritornano nella fortezza e rimane in assedio fino al 4 luglio quando è costretto da rendersi ed è quella la vittoria decisiva perché in quel momento lì l'intera confederazione è tagliata in due il Mississippi è tutto il Mississippi era l'unica fonte di passaggio di rifornimenti alimentari e altro verso l'est e niva tagliata in due non passava più la carne del Texas non passavano più la lana le sementi la segale non passava più un cazzo un esercito che già era impoverito andava ancora più impoverito in questo modo cade quello cade portazzo il Mississippi taglia in due quella è la vittoria strategica qui cosa fa? battaglia inutile cioè perché tecnicamente tu attacchi con tutto no si fa le recondizioni in forza prendi 4 sberloni però infliggi diversi perditi al nemico gli infliggi delle perdite non è che cioè su una forza di 75.000 mettiamo che fosse 85.000 perdere 8.000 uomini vuol dire che è ancora più ridotta rispetto alla tua che è di 120.000 ne perdi 7.000 ma la marmora disastro militare peggio che il 48 e ci credo il 48 tiravate due fucilati e poi si scappava ripieghiamo a goito io vado in testa il ripiegamento che per i soldati è bellissimo vedere un generale che lo vedi partire a scheggia e si mette davanti al ripiegamento non dietro blucher blucher dopo ligni quando si ricongiunge il corpo d'armata prima si fa il suo cicchettino gin e aglio io vorrei sapere chi riusciva a stare a mezzo metro da blucher dopo che si era fatto il suo drink ricostituente gin e aglio tiravano la litata e cremavano un cannone però si è fatto tutto il giorno e anche il giorno dopo avanti e indietro tra le truppe dire forza non voglio mica fare una figura di merda promesso a Wellington che arrivo in tempo e continuava i soldati lo adoravano tu vedi invece la mamma che parte a scheggia vada avanti va a goito e tutti i soldati vedono il tuo comandante che scappa come cazzo pensi di sentirti non è una questione di coraggio è una questione di fare la cosa giusta al momento giusto a Cicamauga Thomas si pianta lì e dice qui non si passa porca troia non si passa e salva l'armata l'armata che poi servirà a Grant per spaccare il sedere a Braston Braga c'è a Tanuga Rosencrantz ripiega non è un vigliaco Rosencrantz ma i soldati vedono il generale che fugge invece vedono quello che sta lì per loro quello è un eroe quello è una merda Ciuciko a Stalingrado ha fatto la stessa cosa io non vado dall'altra parte del Volga perché se attraverso il Volga questi ragazzi qua si sentono abbandonati e crollano io devo stare qui vedono invece oh mamma mamma andiamo a goito faccia stare i pompi vabbè Cialdini è ancora là sta aspettando non lo so che il Pogli dica passa cazzo sei vicino qua sei nel Parmese da Bologna sei la zona del Bologna vuoi passare no a Santa Polenta non passa la mamma scrive Vittorio Emanuele situazione disastrosa sconfitta terrificante bla 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 puttanate non lo so in Italia dico beh ok abbiamo perso questa riorganizza l'armata e riporta l'avanti no non si può ma non si può ma qui devo andare contro un altro storico non lo faccio noi perché ho una stima eccezionale per quello storico ma non è solo un discorso di hai perso una battaglia devi organizzare il problema è che hanno visto i generali scappare cioè se vedono che i generali tu ritieghi ma vedono che il generale è con te il giorno dopo comunque se vedono che il generale è il primo ma i Napoleoni ci facevano così cioè perché c'erano tantissimi morti tra i maresciali di Napoleone perché per dire a un soldato vai a morire devo essere davanti io quel soldato cioè perché c'erano tanti morti durante la carica di Pickett i generali suddisti erano davanti non dietro davanti le cannonate se le prendevano per prime loro i soldati dicevano cazzo si è comandante però rischia la pelle come noi se tu se la mamma fosse stato lì dire no io sto qui con i ragazzi a rompere il coglione a goito ci mando qualcun altro il giorno dopo avrebbero comunque avuto spinta emotiva perché hanno visto che il loro generale rischiava come loro invece hanno visto il generale che batteva usa i botti in fuga e direi io devo morire per uno stronzo così ma va a cagare tra l'altro c'era anche un altro problema l'esercito italiano non era coeso perché e qui veramente e qui quando vi dico che l'Italia non è una nazione anche lì si combatte un nemico straniero per unificare la patria e litigavano il regno di Sardegna con il regno di Sicilia i piemontesi ce l'avevano con i napoletani i lombardi ce l'avevano con i siciliani i siciliani ce l'avevano con i napoletani i toscani ce l'avevano con i piemontesi cioè porca miseria devi fare la guerra contro un nemico unito andavano a litigare ma non a litigare soltanto volavano le coltellate per delle stronzate non era un esercito omogeneo e soprattutto quando vedi che buona parte dei quadri di comando sono composti da quei minchia di mangia Gianduiotti che non è andato a sta gran prova come i comandanti comunque è la battaglia di Custozza seconda battaglia di Custozza l'esercito non ripiega e si pianta lì imprudente passano non solo il mincio ma anche l'olio andatevi a guardare una cartina della Lombardia nella zona del Mantovano che conosco benissimo capirete che hanno fatto il fugone vabbè si piantano lì e ricominciano i messaggi il Reva ha detto a Cialdini quando cazzo attraverso il Po ovviamente non ho usato questo linguaggio da caserma ma diciamo che è la sostanza e Cialdini domani arriva il messaggio da sera no c'è stato un disastro terribile no non si può non si può non passare il Po vabbè non passo il Po messaggio della marmora a Cialdini peggio che il 48 la miseria peggio che il 48 c'è 120.000 uomini nel 48 ne avevi la metà ed erano tutte reclute imbranate peggio che il 48 non passare il Po vabbè ripiego a Bologna non è che il Po è vicino a Bologna ripieghiamo a Bologna è prudente ripiegare a Bologna ma tra l'altro la marmora è il comandante in capo Cialdini è il secondo è Cialdini che dice la marmora ma io faccio un po' ripiego a Bologna e la marmora si 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 va benissimo mamma mia mamma mia mamma mia che c'hai davanti 60.000 austriaci che non possono neanche essere riforniti perché di là sono le pesti ragazzi quando inizia la guerra devono distribuire non avevano abbastanza moschetti e divise perché i moschetti li avevano venduti apro una parentesi questa situazione era dovuta al fatto che dopo la guerra del 59 era venuto fuori un scandalo economico devastante nell'esercito austriaco cioè si era scoperto un giro di magna magna che è roba che veramente sembra di essere tronati mani pulite fammi una comica si era suicidato il ministro delle finanze austriaco che se applicassero lo stesso metro ai politici attuali diciamo che in Parlamento sarebbero in pochi però si era suicidato il ministro delle finanze austriaco talmente era grosso e probabilmente lui non era neanche colpevole ma soltanto l'idea di essere associato a una banda di magna magna l'aveva spinto al suicidio e ce ne erano succedati in tanti l'esercito austriaco nel 66 va in guerra con poche divise rispetto alla necessità con pochi moschetti perché per recuperare un po' di pecunia li ha venduti agli americani i federali nel 1862 si sono pappati la California e Nevada che non erano ancora stati come sono adesso quindi si sono passati oro e argento molta gente non sa l'importanza di battaglie fatte alla alla fin western come Glorietta Pass e a Punch Ranch cioè lì battaglie piccolissime con poche migliaia di uomini ma quelle battaglie lì hanno consegnato la federazione i giacimenti d'oro e d'argento del Nevada del sud Dakota la California il legname tutto quanto il sud non li ha più visti quelli lì mangia le pezze figuriamoci cosa fa il nord i soldi io ce li ho quelli là hanno il cotone sì ma il cotone non è che ci fai io ce l'oro cosa preferisci ho il cotone mandami l'oro vai io ti mando però mandavano i fucili là e non li avevano per loro insomma c'erano raggimenti soprattutto nella parte delle riserve austriaci che erano armati con le picche e aspettavano che arrivassero i moschetti in nuova produzione ciao ciao l'esercito di prima linea era equipaggiato non tutto ma era equipaggiato le guarnigioni le milizie no comunque c'è la battaglia di custodia disastro l'esercito italiano si ferma perché se sa mai siamo soltanto siamo rimasti in 193.000 di là sono in 67.000 magari ci vengono addosso rapporto 1 a 3 con due fiumi di mezzo mince olio più il po' cioè facevi un esame al cervello di chi attaccava in quelle condizioni cioè non è semi Houston contro Carlos Alberto de Santana perché Carlos Alberto Santana aveva diviso le sue armate in tre ed era anche un minchione di proporzioni bibliche diciamo che magari se vedevano attraversare gli astrici qualche fucilata qualche canonata gli astrici del petto un secondo gli astrici tenevano la posizione comunque e di là i prussiani che ormai cioè ormai quando eravano i rapporti dall'Italia cominciavano a ridere non smettevano più perché io mi immagino l'espressione di Momol che quando gli dicono gli amanda scritta la battaglia di Custosa gli fa vabbè vabbè vado a farmi uno spritz perché quello posso fare cioè i prussiani hanno continuato a dire agli italiani attaccate 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 la risposta di la marmora era stata assediamo peschiera i prussiani gli fa notare se distruggi l'esercito di Carlo Alberto peschiera cadi in un giorno quelli non sanno fare la guerra risposta di la marmora ai prussiani quelli non sanno fare la guerra perché tu sì forse non lo so tu sai che cosa cioè se non sanno fare la guerra una cosa che la sanno far bene in tedesca è quella la guerra tu vai a dire perché noi abbiamo avuto i romani sì va ancora un po' più indietro tanto che ci sei vorrei ricordare al signorino in questione che la Tertoburgenwald è in Germania non è dietro l'angolo Armigno del Cheruschi era crucco non è vabbè ma non vorrei la marmora lasciamolo per quello che è insomma e questo era l'esercito fermo lì eroicamente fermo ma l'Italia ha un'altra carta nel Mediterraneo alla flotta la flotta italiana io ne avevo parlato in un altro video storico così la flotta era nominalmente italiana perché per evitare che si litigasse a Muzzo si era deciso che ogni si tenessero colori e comandi anche anche quelli vecchi per cui la flotta napoletana rispondeva ancora ai comandi di quella napoletana quella quella piemontese genovese ancora quella piemontese immaginatevi come erano coordinati bene così immaginatevelo la situazione era quella oltretutto non è che Carlo Pellion di Persano fosse visto benissimo era un protetto del re era anche il furbino che quando era partito la spedizione di Emilia aveva ricevuto l'ordine oh devi fermare Garibaldi sì ma fermalo dopo che è passato a obbedisco cioè proprio papale papale Garibaldi arriva Marsala ci penseranno i cannoni di quelli di Marsala sfiga ci sono delle fregate inglesi in porto l'artiglieria napoletana si arma dalle navi inglese arriva un avviso se sparate un colpo e per sfiga mi sfiora una vela vi facciamo un buco del culo che e non sto scherzando a quel tempo la politica ed è andata avanti anche fino alla fine dell'ottocento la politica delle cannoniere era quella andatevi a guardare a leggere il massacro di Sinope una cannonata tirata dal porto turco scusatemi e la flotta russa ha tritato tutto e lì ha detto spagliamo una cannonata se per sfiga becca gli inglesi gli inglesi reagiscono reagiscono male e non è una dichiarazione di guerra è semplicemente rappresaglia riduciamo Marsala a un tritatutto ma è semplice rappresaglia quindi evitiamo di sparare gli inglesi intanto questi sbarcano poi già non è che fossero granché motivati a sparare contro i garibaldini per motivi loro perché i borboni erano simpatici quanto un mal di calli con le scarpe strette però dico facciamo pure incazzare gli inglesi e non mi sembra il caso stavamo dicendo la flotta italiana la flotta italiana parte da Taranto vada ancora ma si ancora lì Carlo Perlion di Persano aspetta ordini Tegetov 38 anni giovanissimo bravissimo ammiraglio bravissimo esce e va davanti ad Ancona e fa gli italiani se avete le palle venite fuori a fara botte la flotta italiana non si muove però arriva l'ordine del ministero della marina mi sembra gli dice dovete tenere non me lo ricordo esattamente dovete tenere una posizione di aggressiva difesa una cosa di questo tipo che sinceramente che cazzo c'è cosa aggressiva difesa difesa pressante una cosa giù non me lo ricordo perché è una cretina come definizione di sé cioè o difesa o fesa non è che aggressiva difesa che vuol dire niente è politichese c'è un aspetto interessante e per questo vi ricordo ritorno a quello che ho detto della guerra di secessione americana guerra civile americana nella radio di Hunter Rhodes c'era stata una battaglia completamente nuova che aveva come di colpo distrutto tutta la marineria del mondo agli occhi del mondo un evento simile avverrà nel 1904 fra il 4 e 6 quando verrà avverata la Dreadnought che era la prima corazzata monocalibra e lì inizierà tutti a fare la monocalibra una corsa disperata perché ci si era resi conto che una nave che faceva 24-25 noti con tutta la batteria principale monocannone con lo stesso tipo di artiglieria brandeggiabile tutto quanto avrebbe scavalcato le policalibre che erano più lente l'artiglieria era mixata e quindi spesso c'era fatica a coordinare la distanza di tiro e altro e abbiamo lo scontro tra la riete corazzata Virginia e il monitor si sparano addosso per ore non si fanno un cazzo né l'una l'altra tutti scoprono le navi corazzate c'è la corazzate facciamo le corazzate ovviamente chi ne capiva di marineria fa sì facciamo le corazzate serie perché il monitor è affondato praticamente a causa di una burrasca che una qualsiasi nave avrebbe retto benissimo l'altro si è sfasciato da solo erano avevano un pescaggio sotto che era bassissimo per cui bastavano onde un po' alte capottavano cioè si ribaltavano erano navi per la guerra fluviale si capiva però l'idea di fondo è quella corazziamo le navi la Francia la prima vara la Glor che però ha ancora l'intelliatura in legno ed è quindi un ibrido è corazzata ma l'intelliatura in legno l'Inghilterra invece vara la Warrior che non è una vera corazzata è una fregata corazzata ma è tutto in metallo e da lì si comincia la corsa e insieme a quella corsa c'è il vapore a bordo delle navi che consente comunque di muoversi anche in presenza di secca anche se le navi continueranno a portare una velatura enorme in alcuni casi gigantesca per la nave in sé perché comunque la velocità che dava il vapore non era altissima c'era pericolo di guasti le caldaie non erano iperaffidabili però si partiva da lì l'Italia parte da lì costruisce le re d'Italia la principessa Clotilde navi che sono corazzate sono definite così corazzate la palestro non è una corazzata è una cannoniera corazzata per essere un po' più chiari ve lo dico perché sarà la seconda vittima della battaglia di Lissa e con quelle si venguerra le altre navi in legno sono obsolete almeno agli occhi di questi ammiragli Farragut Mobile è andato in battaglia stando sul ponte di una nave in legno gliene sbatteva il cazzo perché perché sapeva benissimo che è vero i moni gli arieti corazzati erano indistruttibili così ma poteva comunque far conto le posizioni stessa cosa Vicksburg però non era cioè in mare aperto le navi in legno erano obsolete ormai e poi era venuto fuori un'altra cosa ho detto il nome ariete corazzato per un motivo Virginia aveva la punta era corazzato aveva uno sperone il monitor poteva speronare ritorna l'idea dello speronamento perché a differenza di tutto si diceva do velocità a spinta della caldaia e della velatura sperona una nave avversaia avendo uno sperone frontale lo sperone in acciaio sfonda l'acciaio l'idea è quella e nascono gli arieti corazzati durano pochissimo in Inghilterra il più famoso era l'Ospur poi ce n'è stato uno usato durante le guerre che praticamente era cambiato un ariete corazzato che è leggendaio nel Sud America l'Italia l'ha fondatore due torri monocannone sperone manovrabile quanto un tronco di pino perché era lunghissimo ma il timone era quello che era dei tempi Persano dall'area d'Italia sposta il suo comando sul fondatore durante la battaglia di lì sabotta di genio perché non lo comunica nessuno finalmente arriva l'ordine da da Firenze cioè dalla capitale vai fuori e mena e mena Tegeto perché quelli là stanno andando avanti e indietro e fanno cicciolini cicciolini vi cagate sotto sulle navi italiane a parte la promiscuità dei comandi e dei segnali ci sono imbarcati artiglieri a prezzo cioè stipendiati francesi e inglesi non c'erano abbastanza artiglieri preparati italiani sapete quanto fossero contenti questi che erano lì non per sparare con i cannoni ma per insegnare gli italiani a sparare con i cannoni e mo' devono andare loro in guerra che culo si esce e si va verso l'issa verso la tragedia perché chi attacca è persano gli altri due ammirali i vacchi e l'albini che hanno le navi in legno non si muovono ma non è che non si muovono perché ci hanno le navi in legno perché non capiscono un cazzo non si muovono perché si stanno sulle balle per sano la motivazione in fondo è quella non si muovono per sano manda il segnale venite almeno non è che tutta la flotta non è che tutta la flotta austriaca è fatta con navi corazzate ci hanno anche loro le bagnarone in legno venite qua quattro cannonate sane le potete tirare no non si muovono la flotta italiana quindi che era superiore di numero ma di molto va in battaglia in inferiorità quasi e poi viene fuori il problema tecnologico la re d'italia ha il timone esposto piglia una stringa cioè un colpo di cannone spacca il timone e la re d'italia comincia a girare su se stessa la prendono male la speronano e giù secca perché ve l'ho detto legno con corazza sopra non tutto metallo la palestro viene legnata canonata e si ribalta affonda due navi italiane perse l'affondatore che si impegna per cercare di colpire qualche nave austriaca ma cosa deve fare l'affondatore dovrebbe andare dritto a punta nel fianco della nave Versailles ma se non la prendi proprio di punta se non la prendi proprio in modo netto con un angolo a 90 gradi se ci strisci contro non è che gli fai sti grandi anni e infatti non combina un cazzo dopo aver affondato le navi Teghietov contento come una pasqua la mia flotta di croati che era stata insultata i croati erano stati insultati da tutti i giornali italiani mi scusano gli amici croati dicendo che non si lavavano puzzavano e altre amenità qualcuno aveva detto addirittura che succedono anche veneziani che era possibile perché comunque l'Austria l'Austria Teghietov se ne va torna eroe nazionale c'è come abbiamo l'azione più grossa del nostro impero l'Ungheria non c'è il mare non è che in Austria ci sia l'Atlantico abbiamo Persano rimane lì la zona di Lissa comunicazione al comando dopo dura battaglia siamo padroni del mare torna indietro fanno la conta delle navi qui ne mancano un paio di cui erano ammiragli eh beh sa e quanti ne avete affondate di là eh ma vedi che sembrava la scena all'inizio di Vegiaca quando il mafioso dice quanti poliziotti russi avete ammazzato eh ma è stessa cosa Persano sotto processo destituito privato dalla pensione tutto quanto sulla discorso della fucilazione no non cioè non perché a parte che per me fucilare qualcuno ma gli altri due generali Bacca e Albino gli hanno fatto un cazzo gli altri due ammiragli quelli che hanno praticamente si sono praticamente rifiutati di combattere hanno fatto un cazzo vabbè due come vedete due bastonate chi è che ottiene una vittoria minima Garibaldi però chiariamo anche lì Garibaldi è vicino a Trento a Bezzecca ha uno scontro con il Quilnis in generale il Quilnis sembra subisce più perditi quante ne fa agli austriaci poi gli austriaci si ritirano per la stampa eterna una grande vittoria ragazzi cioè Garibaldi ha anche la sua età non era più quello di un tempo e poi lo manda a combattere in un posto di merda perché deve attraversare le montagne però è l'unico che si muove ancora dalla Prussia arriva l'avviso raga basta l'abbiamo già fatto il nostro non rompete i coglioni facciamo l'armistizio gli taglia no si va avanti come se l'Italia avesse fatto chissà che si va avanti e dicono Garibaldi corri corri perché se quelli fanno l'armistizio poi ci becchiamo tutto l'esercito austriico in casa ci fanno un paiolo che metta basta Garibaldi è molto vicino a Trento quando dalla Prussia dicono oh avete rotto i puntini puntini fate sto cazzo l'armistizio altrimenti lo facciamo noi voi vi prendete veramente l'esercito austriico in casa due secondi facciamoli l'armistizio ci danno ci danno danno il Veneto a Napoleone III e a Napoleone III da l'Italia perché direttamente a noi manco morti rendetevi conto che poi nel 70 conquisteremo Roma nello stesso modo i cruchi pestano a Sedane Gravelo San Privat l'esercito di Napoleone III Napoleone III avvica casini mostruosi in Francia i soldati francesi che difendevano Roma devono tornare in patria perché è una bolgia e allora si attacchiamo breccia di portapia la marma quando cominciano ragazzi l'esercito da un papalino ma faceva paura ai conigli ma neanche a loro poi niente e tutti esaltati qualche anno dopo il principe Bismarck non quel Bismarck uno della sua famiglia disse all'ambasciatore italiano voi siete il paese delle tre S Solferino Sadova e Sedan ce ne fosse una in cui avete dei meriti è brutto dirlo ma questa è la fotografia di come è nata l'Italia poi abbiamo la quarta la quarta guerra di indipendenza ve ne parlo un'altra volta perché era una guerra mondiale e anche lì l'Italia aveva una possibilità enorme e la butta nel cesso a quella ve ne parlo un'altra occasione però ricordatevi queste queste sono le basi che poi si vedono ancora adesso in Italia non si sente uno Stato litigate per delle stronzate non avete un pensiero comune e sembra non parlo del popolo il popolo in queste guerre è sempre stato quello che alzava la bandiera cioè i soldati di Carlo Alberto tiravano su orgogliosamente il tricolore è chi lo governa che non pensa in questo senso che non pensa come il popolo ma pensa ai suoi interessi alle sue piccolezze è questo che ha sempre limitato e continua a limitare ancora adesso l'Italia vi concludo con un aneddoto che riguarda il mio popolo ma è che è anche abbastanza tragico nella sua tristezza la cavalleria prussiana in ricognizione alla ricerca dell'esercito austriaco arriva in un piccolo villaggio confine polacco entra controllo non c'è nessuno così lo occupa controlla il nome e lo sostituisce con quello tedesco il villaggio si chiamava Oswiecim adesso io il polacco non lo parlo benissimo quindi più facile che sembri cieco come l'ho pronunciato il villaggio è venuto a sviezzi i tedeschi lo sostituiscono con il loro nome tedesco Auschwitz come si suol dire le tragedie arriveranno sempre da lontano io vi saluto ci vediamo domani ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti